Sono le giornate tecnico-dimostrative 2018, SIS, Società Italiana Sementi, ha aperto i suoi campi alle porte di San Lazzaro di Savena per illustrare a tecnici e ad agricoltori le diverse varietà. Io sono in compagnia di Mario Conti, il direttore generale di SIS. Intanto, chi c'è alle nostre spalle e che cosa stanno spiegando e apprendendo? Alle nostre spalle c'è il miglior rappresentante del mondo agricolo italiano, quindi sono agricoltori, operatori agricoli, tecnici, esperti del settore in particolar modo in questo periodo dei cereali a paglia, ossia frumento tenero e frumento duro. Questa giornata è una giornata che di norma viene fatta tutti gli anni, nella nostra azienda agricola vengono seminate delle parcelle per ogni caratteristica varietale di frumento per dimostrare sostanzialmente la risposta del seme del nostro genoma in campo durante un periodo particolare della crescita agronomica del frumento. Quante varietà sono presenti qui? Il catalogo di SIS è un catalogo particolarmente ampio, diciamo che per farla breve tra frumento tenero e duro sono seminate qui in campo oltre 50 varietà di sementi. La varietà è sterminata però si va sempre di più verso una selezione di qualità, quindi ci sono dei grani che tenderanno a scomparire? Diciamo di no, c'è un innalzamento di livello qualitativo e questo mi sembra che sia corretto per alzare anche il livello qualitativo della nostra alimentazione, cosa in cui l'industria sta credendo, cosa in cui sostanzialmente una società sementiera come la nostra deve dare particolarmente attenzione perché l'aspetto più difficile è combinare l'esigenza dell'industria con la soddisfazione in campo della cultura dell'agricoltore, perché anche l'agricoltore deve avere la sua corretta soddisfazione nell'andare a seminare un seme che gli dà meno problemi possibili e più reddito possibile. E quindi come si arriva alla selezione? La richiesta parte dagli agricoltori che vogliono determinate caratteristiche e voi partite con delle sperimentazioni? Noi tengo presente che per individuare una nuova varietà di frumento il nostro settore di ricerca e sviluppo impiega 12 anni. Nel momento in cui il genoma tra due varietà viene unito parte un percorso di valutazione in campo che dura 12 anni. Questo significa che dobbiamo fare un'attenta valutazione delle attuali varietà che sono in circolazione facendo delle selezioni proprio del genoma per cercare di prendere il meglio delle varietà e concentrarle in un'unica sola. Questa è la cosa più difficile che a dirla è semplicissima perché parte un percorso di valutazione che come abbiamo detto dura oltre 12 anni. E la storia di SIS è una storia lunga di oltre 70 anni. Voi siete leader in Italia. Qual è il valore aggiunto di una società come la vostra? Diciamo che questa è una società che l'anno scorso ha festeggiato il suo settantesimo. Quest'anno 71 è la più antica, la più performante società sementiera italiana e soprattutto teniamo a specificarle, ed è un po' il fiore all'occhiello, a completo capitale italiano. Quindi qui c'è la maggior rappresentazione del made in Italy dalla ricerca alla realizzazione in campo di un prodotto che è di fondamentale importanza per il sostentamento sia agronomico che alimentare della nostra nazione. Stiamo dando un'attenzione particolare anche agli aspetti nutrizionali di queste varietà di grano cercando di fare degli studi attenti con i maggiori istituti di ricerca presenti sul territorio italiano per capire anche la rispondenza all'interno dell'organismo umano di queste varietà soprattutto nel mondo in cui le intolleranze e le difficoltà di durabilità stanno diventando dei problemi abbastanza importanti. E quindi un'attenzione importante oltre alle caratteristiche tecnico-economiche anche al discorso della salubrità nell'utilizzo di questi prodotti. Grazie